Ci confronteremo lunedì, e io credo che saremo più di uno, ad evidenziare dati di fatto incontestabili. Primo, il Partito Democratico ha appena fatto una piccola rivoluzione costituzionale inserendo i referendum propositivi, che vuol dire che vogliamo dare la parola al popolo. Bene, questa è una ragione per non togliergliela, per non suggerirgli di non andare a votare. La seconda ragione è il fatto che noi dobbiamo evidenziare l'interesse collettivo rispetto all'interesse per quanto legittimo, ma evidentemente di certi azionariati. Ora, io provengo da una realtà territoriale la quale unitariamente, destra, sinistra, centro, lega, tutti, stanno votando a favore di questo referendum abrogativo per quanto riguarda le trivelle. Perché? Perché abbiamo subito i danni della subsidenza. Noi sappiamo già che cosa accade quando si trivella in mare e quando lo si fa senza considerare che stiamo tutti, tutta Italia è il paese con la maggiore difficoltà geologica. Tanto è vero che è il paese al mondo insieme con il Giappone con il più alto rischio, il più alto rischio dal punto di vista vulcanologico, dal punto di vista dei terremoti, dal punto di vista delle alluvioni. E dunque questo paese ha bisogno di essere considerato quello che è un paese fragile, che sta seduto in un mare chiuso, a sua volta molto fragile. Non possiamo continuare a considerare questo come un dato ininfluente sulle nostre scelte. E poi c'è la scelta delle rinnovabili e soprattutto dell'efficienza energetica. L'Italia ha cominciato bene, sta rallentando, non va bene. Dobbiamo puntare l'attenzione sulla ricerca e sull'innovazione.